Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139€ al mese, con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600€, 11 rate da 139€ e rata finale 12.058€. Tanzero TAIG 381, offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 dicembre. Pare che una data ci sia, ma dare certezze sarebbe veramente ridicolo, visto che ormai sono anni che siamo in attesa di questa uscita. Ovvero sto parlando ovviamente di Donda, il disco di Kanye West. Abbiamo però diversi spoiler, se così vogliamo, che sono un po' più di spoiler. Abbiamo dei brani proprio completi che puoi reperire, non nelle piattaforme ufficiali, ma un po' ovunque. E di questo disco Kanye West sta facendo parlare, veramente, che non riesco a capire se lo fa per un discorso di marketing o se lo fa perché invece ha bisogno di, semplicemente, una questione sua personale. Cioè che è proprio lui che sta fuori di testa e non sa come vuole muoversi. Fa questi listening party, si chiude negli stadi pagando un milione di euro al giorno per starci, per vivere in una piccola stanzetta, allesta studi dove vuole. Vabbè che quando hai un miliardo e 800 mila euro di patrimonio, cioè così dice Google, perché lui dichiara di averne 7 di miliardi di patrimonio, dice che potrebbe dare un dollaro per ogni essere umano sulla terra. Ma a parte questo, quando hai queste possibilità puoi fare come vuoi. E infatti la cosa che mi gasa, diciamo, di questo progetto in uscita non è tanto tutto questo movimento, ma il fatto che lui sta lavorando a un disco che deve restare nel tempo. Non è un disco che deve passare, non è un disco in cui sta, diciamo, ragionando in termini di canzoni che devono arrivare in vetta. Lui sa che questo disco, quando uscirà, sarà comunque in vetta la prima settimana, le prime due, sia quello che sia, ma lui sa che vuole fare un disco che anche tra dieci anni suoni in qualche modo attuale. E questa è una mentalità che mi piace molto, ed è una mentalità che può avere solo una persona che ha realizzato tutto e che veramente deve trovare un motivo per andare avanti, perché quando tu inizi a decidere anche di candidarti come presidente, al di là che è impossibile che la gente ti voti perché comunque resti un pazzo a tuo modo, è normale che accadano tante cose e quello che fai lo vuoi fare proprio per portare un messaggio. E quindi c'è anche quel discorso che non è più il ragazzino che ha fame, non è più l'uomo realizzato che fa il suo, non è più la persona che deve dimostrare qualcosa, non devi dimostrare niente, devi solo fare qualcosa che hai dentro, che è un fuoco e che non deve spegnersi. Comunque andiamo a vedere un po' di brani, che ci sono ad esempio Hurricane, con The Weeknd e Lil Baby, che è un brano che ha visto oltre dieci versioni inedite, giusto per dirne una, per far capire quanto lui sta lavorando a questi brani in maniera meticolosa, vuole che siano perfetti e hanno tutti quanti questa sonorità un po' cupa. Non sarà un disco allegro, felice, sarà un disco che comunque mantiene certe ideologie, certi capisaldi della lirica di Kanye West. Ad esempio ovviamente il suo rapporto con Dio, fondamentale, ha fatto un disco intero dedicato a quelle sonorità e a me mi ha fatto veramente cagare ovviamente perché non mi piace, però riconosco la qualità e comunque si è portato a casa un MTV Awards, una cosa del genere, un Grammy, che cazzo si è portato a casa per quella sottocategoria? Quindi comunque, pure non essendo diciamo il disco che più ricorderemo nella storia di Kanye West, comunque si è portato a casa nella sua sottocategoria il top del top. E qui abbiamo The Weeknd in questo brano che fa un ritornello veramente di livello, ma è un disco di livello ogni cosa che viene detta, ogni cosa che viene fatta, e in cui comunque ha questo ritornello che si divide in due parti e inizia dicendo che comunque è in un luogo oscuro dove le luci sono spente, dove c'è un fulmine che colpisce la spiaggia, ma poi trova Dio dentro sé, ho trovato Dio in me, dice, e voglio che tu veda, io posso camminare sull'acqua, e migliaia di miglia sulla riva, posso galleggiare sull'acqua, padre, tienimi vicino, non farmi annegare, so che non lo farai. Quindi, cioè, comunque The Weeknd appunto racconta che cosa vuol dire la scoperta di una fede che ti porta a camminare metaforicamente nell'acqua, e queste sono tematiche che fanno parte di Kanye West, cioè The Weeknd questa roba la può trattare solo su un disco di Kanye West appunto, quindi è anche direttore artistico a 360 del messaggio ideale che manderà questo disco, non è più buio per me, la figura di Dio è fondamentale, in ogni caso è un brano di storytelling interiore, un flusso di coscienza, che racconta le realtà degli artisti che fanno la strofa, quindi Kenny e Lil Baby, e appunto è un brano un po' come tutti quelli che sono stati spoilerati, in cui comunque ci sono tante immagini, e si chiude questo brano proprio con l'immaginario e con le parole di Kenny, che dice è difficile trovare quale sia la verità, ma la verità era che la verità fa schifo, sembra sempre che dobbiamo fare cose, ma questa volta era troppo, e mi ricollego un po' alla teoria di Madara Uchika in Naruto, del fatto che comunque nulla in questa vita va come vorresti, che l'odio stesso serve per proteggere l'amore, e quindi praticamente Kenny West con questa frase mi anche illumina perché io sono sempre alla ricerca della verità, e sentire in qualche modo questa frase così reale, cioè la verità fa schifo, non è che uno passa tutta la verità a cercare la verità, ma la verità fa schifo, per questo la gente si riempie di illusioni, e non è una frase che ti aspetti da uno che vuole portare un messaggio cristiano all'estremo, ma è il messaggio umano, e questo che mi piace, che non c'è un indottrinamento buttato lì, ma c'è proprio l'essere umano che si interroga, che è nel buio, che trova la risposta, e la risposta è che la verità fa schifo, il mondo, la vita in questa terra, è comunque un luogo di perdizione, in cui dobbiamo trovarci, non è un luogo per godere, o per fare non si sa cosa, è un luogo triste la terra, e se lo dice uno con un patrimonio da quasi 8 miliardi, ti fa capire che, insomma, i soldi non sono proprio quelli che fanno la felicità, poi abbiamo Off The Grind, con Playboy Carty, e Fivio, Fivio Forreggin, che cazzo ne so, non so come si pronuncia, non lo conosco, però, è proprio il buon Fivio, lo chiamiamo così, lo dobbiamo, restringere, che ci parla del suo periodo in prigione, e racconta un po' lo stile di vita, mangia cibo, allena, ti va a dormire, poi sto pregando, lui che è stato, diciamo, arrestato, nell'aprile 2021, ed è stato rilasciato a luglio, dopo, con più accuse, poi è fuggito a piedi dalla polizia, eccetera, però comunque, ti racconta questo periodo, e ti porta a uno storytelling, che lo appartiene, ma sempre comunque incline, a quel mondo che porta, diciamo, Kanye West, e poi si è fatto vedere anche lì, nel Mercedes-Benz Stadio, in una stanza simile a una cella di prigione, quindi hanno giocato anche con l'immaginario, comunque questo è un brano con uno stile, completamente diverso, un'altra sonorità, un altro mondo, un'altra attitudine, ma che conserva comunque, il creare immagini a chi le ascolta, immagini di un altro pianeta, rispetto al precedente, ma che comunque dimostra, che è un disco completo, non limitato in un sottogenere, o come ho detto prima, destinato a sparire, e Kanye West insomma, praticamente dice che è fuori dalla griglia, e lo fa per suo figlio, per le generazioni future, cioè è un ritornello fuori dalla griglia, cosa si intende? Fuori dalla rete, cioè che lui praticamente, è una rete sia metaforica, che reale, perché lui a fine del 2018, è andato via, cioè ha cessato di fare musica profana, come la chiama lui, e si è dedicato al cristianesimo, andando via da Los Angeles, è andato in una città, in cui comunque, voleva stare per cazzi suoi, in pratica, a fatti concreti, voleva un posto poco popoloso, e voleva comunque fare musica, dedicarsi ai suoi mestieri, senza distrazioni, generando enormi quantità di denaro, per poi, sì quantità di denaro, per poi sostenere i figli, le generazioni future, e praticamente, ci è riuscito, questo è poco, ma sicuro, e poi abbiamo, praise God, cioè proprio lodare Dio, a descrivere, a conferma, del fatto che questo, è un disco che, come tutta la musica, di Kanye West ormai, dal 2019 in poi, ha a che fare con la figura spirituale, non vuole sapere niente, e qui, Travis Scott, che nel featuring, non, te lo dice chiaro e tondo, il diavolo mio avversario, non può pagarmi per fermarmi, citando praticamente, passi biblici, nel sottotesto di questa frase, è riabituato a vivere nel peccato, proprio come il resto del mondo, obbedendo al diavolo, il comandante dei poteri, del mondo invisibile, e lo spirito dell'opera, dei cuori, di coloro che rifiutano, di obbedire a Dio, questa è diciamo una citazione, che viene immessa, quando poi si è parlata, di questa strofa, ma solo dopo aver riposto, la fiducia a Gesù, i cristiani, poi opponendosi al diavolo, riescono a fuggirlo, infatti umiliatevi davanti a Dio, resisti al diavolo, ed egli fuggirà da te, ora io personalmente, non mi piace questa visione così estrema, perché comunque, in America hanno questo modo, di vivere la, la cristianità, in maniera estremista, proprio, cioè calmatevi comunque, va bene tutto, però relax, relax, cioè Dio non è una persona giudiziosa, umiliatevi a Dio, Dio non vuole che tu, ti senta umiliato, è questo che io, io la vedo così, non mi piace, una visione di un Dio, così cinico, io la vedo diversamente, però comunque, mi piace il fatto, che venga portato, un certo messaggio, tutto qua, mi piace che comunque, c'è ancora qualcuno, e con un bel patrimonio, che quindi porterà, un po' ovunque, la sua musica, il suo messaggio, che comunque, tratta tematiche spirituali, che sente dentro, però comunque, parliamo di un personaggio, ampliamente bipolare, ampliamente fuori di testa, parliamo di tutti i personaggi, all'estremo, e quindi comunque, questo messaggio, può essere un po' travisato, cioè non è che tutto, è oro tutto ciò che luccica, quindi di conseguenza, anche questa, questo estremo, cristianesimo, non mi convince appieno, anche se lo apprezzo, comunque, perché io apprezzo, il messaggio, in sé per sé, in ogni caso, Donda, un disco che farà parlare, un disco che già fa parlare, un disco che sicuramente, farà un putiferio, da un punto di vista, proprio del click, della vendita, e che, in qualche modo, segnerà, questo periodo storico, perché, sono quei dischi importanti, quei dischi, che dobbiamo soffermarci, noi amanti del genere, e non solo, quindi aspettiamo che esca, pare il 13 o il 15 agosto, non ho capito bene, ma le date sono sempre relative, quando c'è di mezzo Kenny West.